E anche i titolari e i dipendenti delle strutture sportive e i presidi organizzati in questi giorni a Campobasso dall'Associazione Pubblici Esercizi Molise della Federazione Commercio e Turismo. Ma andiamo a vedere. Non sono soltanto i ristoratori che si lamentano delle decisioni assunte dal Presidente del Consiglio Conte ed inserite nel suo ultimo decreto per fronteggiare l'aumento galloppante dei contagi da virus Covid-19. Sono infatti presenti ai presidi di questi giorni anche i titolari delle strutture sportive che dopo aver messo in sicurezza i locali con le attrezzature hanno trovato una chiusura che considerano ingiustificabile. Purtroppo ci hanno chiuso al 100%. Durante il post-lockdown comunque ci siamo adeguati a quelle che erano le norme di sicurezza. Tra virgolette è anche ridotto il numero di ingressi e quindi oltre ad aver investito anche perso altri soldi. Sostanzialmente ci ritroviamo qui semplicemente a voler far sentire la voce per poter far capire sostanzialmente il fatto che se le persone si fermano, se il corpo si ferma, se la mente si rinchiude, sostanzialmente il problema subentra e i problemi che possono insorgere a livello di salute possono creare altre problematiche. Cosa che io ho notato nel post-lockdown, molte persone psicologicamente erano a terra. Quindi chiediamo semplicemente di poter continuare a lavorare, restringendo ancora di più quelli che erano gli ingressi prima del lockdown, però di poter continuare a lavorare con queste persone per dargli continuità rispetto a quello che già hanno fatto da un punto di vista di un percorso di cambiamento, da un punto di vista dell'allenamento ma soprattutto alimentare e quindi sostanzialmente chiediamo solo e semplicemente questo. La risposta a questo perché non ce la sappiamo dare, semplicemente per un dato di fatto. Lo sport è una medicina, l'attività fisica motoria di base è una medicina per il soggetto. Ci sono studi scientifici, anche se di poco, diciamo, fatti da poco, sostanzialmente poi anche pubblicati su riviste scientifiche dimostrano che l'attività motoria non viene praticamente a portare alla contrazione del virus. Anzi, è stato definito come un'infezione opportunista, essendo il virus praticamente un virus che intacca soprattutto i più fragili. In questo modo i più fragili resteranno fermi, chi non lo era potrà diventarlo e quindi si aumenta l'esposizione comunque a una possibile contrazione del virus. Questo è il discorso.